Ed è pubblicata sul catalogo Califarte, eccolo qua. Vi ricordate cos'è Califarte? Ne ho parlato largamente a 5 anni di vita, è un progetto che noi abbiamo inventato, creato, portato in giro per l'Italia, nel quale gli artisti si impegnano a trasformare in opere di pittura le canzoni di Franco Califano. A Piero Masì è toccata una canzone che si chiama Buio e luna piena, spero che qualcuno se la ricordi, un Califano dei primi anni 80, credo 82-83, fu un bel disco, ebbe pure un certo successo. Ed era un'immagine dell'uomo, della persona Califano, nella quale si rispecchiava una sorta di autoriflessione che era concentrata sul tema di giorni sì, giorni no, successi, insuccessi, avventure e disavventure. Come l'ha resa Piero Masìa? Con dei riquadri, c'è la sua passione, quella di Piero, per la musica con la batteria, ci sono due volti contrapposti, c'è un volto diviso in due, fra Buio e luna piena, ci sono quei paesaggi nei quali utilizzando termini e tecniche più di astrazione che di figurazione Masìa riesce benissimo, ci sono dei colori secondo me fantastici ed eccolo lì, il contralto, il rapporto fra il Buio e la Luna piena, una Luna piena su un cielo azzurro e poi un Buio illuminato solo dalla Luna. Sulle opere di Masìa di questo genere io sono uno strenuo difensore, lui che ne è l'autore credo di no, perché continua da indisciplinato a fare un po' quello che gli pare, però vabbè che lo faccia pure per l'amor del cielo, però voglio dirvi che ho sempre difeso e continuo a difendere il lavoro di Piero Masìa anche quando non a caso, molto bene, sono contento. E poi ti ho preparato sul carrellino, visto che praticamente stavi parlando così bene delle opere di Masìa, mi hanno richiesto un pezzo più piccolino, qualche cosa differente da quello che avevamo messo sul set. Senti un po', ma tu hai le dimensioni di questo, sai qualcosa? Questa è una trilogia intanto. Io ho tutto, ho tutto perché sono sempre preparatissimo per evitare di essere bacchettato. Oh mamma, mai sarà con me. Questo qui misura 50x40, è la trilogia 105, il titolo è l'artista, il suo studio, i suoi colori. Eh? Ti sbalordisco eh. Sarà stato bravo? Eh, sono bravo, sto studiando proprio, non mi fai dormire la notte. Ma smettila, ma smettila, chi ti sente chissà che crede. Allora la trilogia per Piero Masìa, visto che prima si parlava di greco, no? Ha lo stesso significato delle composizioni della tragedia greca che si svolge in tre fasi. Ma il bello è che però quando le trilogie sono come questa, o come quelle che abbiamo avuto all'inizio, ti ricordi quando abbiamo avuto i primi numeri, il numero uno, due, tre? Sì, proprio i primi primi. I primi anni Ottanta erano. E devo dire che hanno riscosso anche un interesse importante. Queste sono quelle forme di esercizio di stile di Masìa che personalmente, ripeto, personalmente approvo tantissimo. Ma al di là della riuscita di quella pubblicata sul catalogo calificato di Farte, stai qui e tu non ti muovere. Il concetto è incrociare con il sistema della strazione geometrica segni e colori perché la risultante sia poi intanto qualcosa di gradevole e in secondo luogo qualcosa che appartiene al novero, al gruppo, alla raccolta delle cosiddette trilogie. Io non mi... Allora, 2020, ottobre 2020 e anche, non dico datato, ma insomma, rispetto alle ultime trilogie che abbiamo avuto ha già due anni in meno. Sì, ha sicuramente qualche... Sì, beh, quelle lì erano ancora più datate. Quelle erano 83, credo, se non fate. Ma anche cromaticamente, infatti, ci accorgiamo che effettivamente qui l'artista ha avuto poi la sua evoluzione, no? C'ha una maturazione diversa. Assolutamente. Non male, non male. Grazie. Grazie. Grazie.